Nella nostra attività tutto viene trasferito, subito. Cresciamo in tempo reale, connessi, produttivi, portiamo a termine molti progetti. Non possiamo permetterci di perdere tempo, nemmeno per il download di un file. Nella nostra squadra, chi non è connesso non può servire efficacemente i clienti. Serve un accesso continuo alle informazioni necessarie a gestire questa attività. Anche quando ci spostiamo di corsa da una stanza all'altra, se non siamo connessi non possiamo gestire. Dagli strumenti alla tecnologia, tutto ruota intorno al ritorno sull'investimento. Questo ci permette di andare avanti e potenziare la nostra attività. Grazie alle nostre risorse IT, possiamo creare strategie per il futuro, contando su tecnologie avanzate, sicuri, compatibili, aggiornabili. Qualità fondamentali per gli strumenti che utilizziamo nel nostro lavoro. Che cosa alimenta il successo della nostra attività? Noi, con un piccolo aiuto da parte di qualcuno che ci capisce.